In questa brevissima video lezione noi andremo a indagare l'origine del termine estetismo e delineeremo per sommi capi le caratteristiche essenziali del personaggio dell'esteta e del luogo dove questo personaggio di solito vive. Prima di parlare di estetismo parliamo di dandismo. Il dandy è un termine probabilmente coniato a metà del 1800 e andava a identificare una persona molto elegante ma di un'eleganza piuttosto stravagante. Era un personaggio che amava isolarsi, in particolar modo per distinguersi dal resto della folla, del popolo, e questo isolamento serviva anche al dandy per contrapporsi a quell'utilitarismo borghese che nasceva appunto in questi anni. Il dandy esaltava tutto ciò che era futile e inutile. Charles Baudelaire riteneva che questo atteggiamento del dandy fosse un atteggiamento di opposizione alla volgarità che imperava nella società di massa che appunto proprio in questi anni andava nascendo. Chi è l'esteta allora? L'esteta di fatto è il dandy in ambito letterario e intellettuale, cioè l'esteta è quel personaggio e romanzo che eredita dal dandy le caratteristiche che abbiamo visto nella slide precedente e che fa sue queste caratteristiche diventando un personaggio in alcuni romanzi che vengono scritti verso la fine dell'Ottocento. E allora chi è l'esteta? L'esteta è il dandy in ambito letterario e intellettuale, cioè è quel personaggio che porta gli atteggiamenti e le caratteristiche che abbiamo visto del dandy nei romanzi, e anche in alcuni romanzi che vengono scritti tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta del 1800, quindi verso la fine del 1800. L'esteta rispetto al dandy si atteggia anche a intellettuale e quindi si propone anche come modello per naturalmente la letteratura di quel periodo, fa delle scelte in ambito letterario, artistico, particolarmente significative e di fatto le sue scelte sono guidate non dalla moralità ma da questa esaltazione del culto della bellezza. L'esteta antepone a tutto, vi ho detto anche all'ambito morale della vita di un uomo, il concetto di bellezza, tanto da addirittura stabilire una perfetta corrispondenza tra bellezza e vita, quindi trasformare la propria vita in un'opera d'arte diventa una delle parole d'ordine più importanti per questi scrittori, ma di fatto anche per questi protagonisti dei romanzi. E allora andiamo a vedere alcuni di questi protagonisti, sicuramente partiamo da Desessent, che è il protagonista del romanzo controcorrente di Ioris Carl Isman, ed è il primo romanzo che è stato costruito attorno alla figura di questo esteta, apparso nel 1884, dà origine a questo fenomeno dell'estetismo e di fatto caratterizza anche i romanzi successivi, e quindi troviamo tratti di Desessent anche in Andrea Sperelli, che vede la luce nel piacere del 1880 di Gabriele D'Annunzio. L'ultimo di questi esteti, ma l'ultimo soltanto in ordine di tempo naturalmente, è Dorian Gray nell'omonimo ritratto di Dorian Gray di Oscar Wilde, apparso nel 1880, che poi è diventato anche il punto di riferimento per ogni discorso sull'estetismo. E allora andiamo a vedere questi tre personaggi, quali caratteristiche hanno. Naturalmente noi delineeremo in questa breve lezione i tratti general-generici dei singoli personaggi. È chiaro che parteremo da Desessent, ma è chiaro che alcuni di questi tratti sono caratteristici di tutti e tre questi esteti, altri saranno pur presenti in tutti, ma specifici di uno rispetto ad un altro. Comunque diciamo che a livello generale il personaggio e l'esteta è caratterizzato da un sentimento di superiorità. L'esteta si sente superiore al popolo, superiore alla massa, e quindi alla società di massa, anzi addirittura si sente unico. Quindi molte volte è l'unico che capisce davvero le cose, è l'unico che ha la visione chiara e netta degli eventi. Ovviamente è proprio dell'esteta la polemica contro il vil guadagno, il guadagno vile, il guadagno che è alla base della società borghese. Ecco perché c'è questa polemica, perché l'esteta, il personaggio esteta, è un personaggio che attacca la società di massa e attacca appunto la società di massa come prodotto della borghesia imperante dell'Ottocento. E la borghesia si basa sul concetto del guadagno, del profitto, per cui l'esteta si pone invece agli antipodi rispetto al concetto del guadagno. E questo è un elemento particolarmente interessante perché vedremo che gli esteti curano moltissimo la forma esteriore rispetto invece a un vuoto interiore, ma anche a un vuoto delle proprie tasche, che potrebbe ovviamente, come nel caso Andrea Sperelli, portarlo anche a un drammatico finale. Il personaggio esteta è un personaggio che si abbandona ai sensi, potenzia al massimo le proprie sensazioni a discapito della ragione, quindi segue le proprie emozioni, i propri sensi. e proprio perché, come avevamo detto precedentemente, si ritiene superiore alla massa, vive in una condizione di isolamento. Isolamento dalle masse, isolamento da anche le persone che in qualche modo potrebbero provare degli affetti nei suoi confronti. Spesso l'esteta è un personaggio, come vi ho detto prima, vuoto interiormente e quindi anche freddo. Caratteristica del personaggio esteta è quello del collezionismo. Gli esteti collezionano, collezionano di tutto. Oggetti fondamentalmente però rari, totalmente inutili, futili. Dove collezionano questi oggetti? Ecco, nel luogo dove l'esteta regna, dove l'esteta vive. E il luogo dove l'esteta vive è la sua casa-museo. La casa diventa lo specchio dell'esteta e viceversa, naturalmente. La casa diventa il luogo in cui l'esteta realizza pienamente se stesso. Ecco perché i romanzi che trattano appunto di questo personaggio, di questo esteta, sono romanzi caratterizzati da una trama non particolarmente complessa, ma ricca di descrizioni. È come se l'autore appunto osservasse il personaggio e l'esteta all'interno del luogo, dei luoghi in cui l'esteta si muove. E questa osservazione è un'osservazione fatta con un'attenzione, un'attenzione molto forte per i colori, per le stoffe, per i profumi di quella casa. Un'attenzione per le decorazioni delle pareti di questa casa. Molte volte queste decorazioni sono estremamente ricercate con un mobilio, per esempio, come abbiamo detto precedentemente, anche molto raro, o in molti casi vere e proprie opere d'arte. Anche qui naturalmente opere d'arte che sono il frutto di una tendenza decadente, quindi non verso la classicità dell'arte, ma verso la scelta proprio di opere d'arte, proprio della decadenza di tutte le epoche artistiche. Anche in ambito delle scelte letterarie, per esempio, l'esteta preferisce, nel caso di Desessens, per esempio, preferisce il latino del periodo decadente, quindi dell'ultimo periodo della letteratura latina, piuttosto che il latino di Cicerone. Quindi una scelta ovviamente specifica, particolare, così come la musica, di fatto, questi esteti amano una musica forte, una musica che possa rappresentare in quel magma di emozioni di cui loro amano circondarsi. Di solito l'autore preferito è Wagner. A completare questo arredo ci sono fiori dalle forme le più strane possibili e piante tropicali. Grazie. 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 Grazie.